Il quadro Automat di Edward Hopper del 1927 raffigura una donna seduta da sola in un Automat, una tavola calda, il tipico locale self-service degli anni ruggenti degli Stati Uniti, gli anni venti, i cosiddetti Roaring Twenties. La donna come vedete è truccata, è molto elegante e fissa la sua tazzina in un'atmosfera di solitudine che potremmo definire rarefatta, in cui la frenesia tipica di questi locali new yorkesi sembra essersi di colpo fermata. I suoi pensieri infatti diventano esattamente il centro della scena. È una donna completamente estraniata dalla realtà luminosa, rutilante, notturna della città di New York. Infatti l'ampia vetrata dietro di lei, come si vede, sembra aver inghiottito completamente la città nel buio. Quello che rimane è solo un riflesso dell'interno del locale, che possiamo notare attraverso le due file di luci, di lampadari che si riflettono. Le gambe scoperte sono il punto più luminoso del dipinto, che fa da contrasto con i colori accesi degli abiti, il cappotto, il cappello, quindi questo verde e questo giallo è anche i colori degli oggetti che la circondano. Si è tolta solo un guanto, forse magari di fretta, e fissa la tazzina in questa atmosfera di silenzio che sembra quasi disarmante. Infatti il realismo in questo caso sembra sfociare in una sorta di astrazione metafisica, al punto tale che alcuni critici hanno affermato che potrebbe trattarsi di un soggetto onirico, un soggetto di pura illusione. Un quadro come questo va considerato anche come veicolo molto rilevante per riflessioni utili e proficue che possono arricchire, ad esempio, come succede nel mio caso la ricerca e la didattica nell'ambito della comunicazione interculturale, che nella fattispecie appunto è uno dei corsi di laurea in cui insegno presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università di Torino, dove infatti è stata allestita la mostra, la società per immagini che include anche questo dipinto di Hop. Ciò che è rilevante in questo senso sia questa integrazione dell'arte, delle forme espressive in generale, ma non solo l'arte ma anche la letteratura, è il rapporto con le scienze sociali appunto, è il rapporto che qui possiamo notare tra esterno e interno, che è un rapporto potremmo dire duplice. Da un lato vediamo l'interno del locale versus l'esterno della città di New York, anche se questa città diventa appunto avvolta nel buio e praticamente invisibile e dall'altro lato invece il contrasto tra l'interiorità della coscienza della donna e i suoi pensieri e tutto il resto, tutto il mondo intorno a lei. Non è un caso infatti che uno dei testi del Whitney Museum of American Art dove il dipinto è stato esposto recita così. Hopper riproduce costantemente spazi ed esperienze tipici di New York dove si osserva tra le persone una vicinanza e allo stesso tempo una separazione dovuta a diversi fattori tra cui il movimento, la struttura, le finestre, i muri, la luce o il buio. Dunque questa esperienza di simultanea vicinanza e separazione è ciò che meglio descrive il concetto di alienazione urbana, ma anche la difficoltà e a tratti potremmo ben dire la impossibilità di reali rapporti personali, interpersonali in queste metropoli, no? Qui che diventano un po' la metafora appunto dell'alienazione. Queste metropoli vengono spesso definite melting pot e queste melting pot sono appunto spesso definite fino anche nei dizionari come luogo di incontro tra persone diverse diversificate in cui le culture, le differenze si amalgamano. Il termine inglese, io insegno linguistica inglese all'interno del corso di comunicazione interculturale, il termine che descrive questi rapporti, questa forma di comunicazione interculturale o l'ambizione di una comunicazione interculturale è blending, il blending di culture e di soggettività diverse. Questo blending rimanda a una fusione e una assimilazione, esattamente come in cucina in pratica, quando si frullano insieme vari ingredienti per produrre una sostanza unica. Ma in realtà ancora oggi il termine più preciso da usare sarebbe, non so, mixing oppure combining, mescolare sì ma mantenendo appunto questa separazione, ossia una mescolanza in cui gli oggetti o diciamo gli ingredienti stanno sì vicini tra di loro senza però davvero unirsi. Insomma per intenderci un po' la differenza tra una Macedonia in cui i pezzi di frutta sono sì tutti insieme ma comunque rimangono separati rispetto ad esempio a un frullato. Questo è proprio melting e mixing la differenza sostanziale. Perché questo? Perché la realtà dei fatti purtroppo ci comunica ancora oggi che questo stadio di comunicazione interculturale è quello che potremmo definire il superamento della alterizzazione, il processo come è chiamato in inglese di othering, rendere le persone altro da sé, altro da noi. Questo superamento è a volte molto 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 raro e più spesso anche nelle cosiddette melting pot che dovrebbero prevedere questo melting, questa fusione interculturale che superi l'alterità e l'alterizzazione sembra di fatto spesso ancora oggi arrestarsi a un tipo di comunicazione più vicina a quella multiculturale con l'insieme di varie soggettività ma non perfettamente integrati in cui le persone diverse, diverse per genere, per etnia, per orientamento sessuale, per molti possibili altri fattori sono sì vicine ma al tempo stesso anche molto separate. Quindi è chiaro che l'arte se viene integrata a questo tipo di studi risulta estremamente proficua sia l'arte visiva sia l'arte diciamo verbale quindi sia la pittura o le forme di arte visiva sia l'arte letteraria e senza neanche tralasciare ad esempio il cinema, quindi la combinazione delle due oppure tutto quello che è mixed media come si suol dire al giorno d'oggi. Quindi queste forme artistiche diventano illuminanti per riflettere insieme anche ai nostri studenti, alle nostre studentesse su temi che come questi informano direttamente la ricerca sociale. Ma il quadro di Hopper oltre ai concetti di alienazione e solitudine urbana si fa anche portavoce di un'altra tematica, di un'altra riflessione molto significativa purtroppo ancora oggi nel 2021 che è quella della condizione della donna. La protagonista come dicevo prima è raffigurata con le gambe scoperte, il bianco della pelle risalta, quindi è il punto più luminoso. Se ora questo sembra normalissimo e anche abbastanza scontato negli anni venti non lo era affatto, anzi potremmo chiaramente definirlo senza alcun dubbio come rivoluzionario. Questa donna ritratta da Hopper infatti è una delle cosiddette flapper. Flapper sono queste giovani donne degli anni venti che erano caratterizzate per un look specifico, un trucco a volte eccessivo per gli standard del tempo, per il fatto che bevessero alcolici come gli uomini, per fumare il pubblico, per guidare gli automobili come gli uomini e soprattutto erano anche caratterizzate da una indipendenza, da una libertà e da una sessualità diciamo più disinvolta rispetto alla morale standard. Tutti elementi questi che andavano a scardinare prepotentemente le norme socioculturali e anche la morale sessuale del tempo. In quanto fenomeno socioculturale le flapper emersero nel secondo, nel periodo diciamo liberale degli anni ruggenti, in quegli anni caratterizzati da una intensa turbolenza politico-sociale e da un significativo e rilevante scambio culturale tra l'Europa che era appena uscita dalla grande guerra e gli Stati Uniti. Invece da un punto di vista squisitamente linguistico la parola flapper descrive una ragazza da poco diventata donna, paragonata dunque a un uccellino che sbatte le ali mentre impara a volare e impara ad essere indipendente. Invece da un punto di vista sociolinguistico è interessante, direi anche interessantissimo e anche molto mi verrebbe da dire contemporaneo, notare come l'espressione a partire dal XIX secolo potesse anche indicare una donna dedita alla prostituzione, una donna sola e che quindi equivaleva a questo tipo di label, a questo tipo di etichetta che ora molte persone possono giustamente anche considerare antiquata o comunque superata e questo è chiaramente tutto da vedere e da considerare. Il termine era comunque anche un termine dispregiativo dal punto di vista non tanto etico ma appunto morale che indicava una donna irrequieta, una donna non conforme ai diktat sociali, morali del contesto in cui viveva o come si direbbe oggi una donna, come si direbbe oggi nell'ambito dei gender studies, una donna che non era conforme ai gender roles, ai ruoli di genere, a ciò che ci si aspetta, a ciò che la società si aspetta dalle donne e ciò che invece si aspetta dagli uomini. Al giorno d'oggi una donna sola in un locale non dovrebbe destare più curiosità oppure stimolare particolari riflessioni o particolari ricerche. Però tuttavia sappiamo molto bene, come ci comunicano le cronache costantemente, che questo atteggiamento possa ancora essere visto come atipico, non atipico e comunque soggetto a un tipo di reazione da parte delle altre persone. Questo atteggiamento può addirittura diventare pericoloso. Le donne infatti ancora oggi sono vittime di violenze verbali, di catcalling o di altri fenomeni di abuso da parte degli uomini. La linguistica, l'analisi del discorso, così come gli studi letterari, si rivolgono ai gender studies per capire come questi fenomeni possano verificarsi oppure anche perpetuarsi nel tempo, nonostante le varie lotte, le varie ricerche e i traguardi raggiunti. È ovvio e anche decisamente molto triste rilevare che queste forme di abuso non si limitano chiaramente al catcalling o all'abuso verbale, ma arrivano a episodi di violenza ben più grave. Il quadro di Hopper dunque, per concludere, così come tanti altri quadri ovviamente, si dimostra uno strumento molto efficace per coadiuvare attivamente la ricerca e la didattica delle scienze sociali. Per quanto riguarda la mia ricerca, questo tipo di integrazione tra i linguaggi espressivi e i linguaggi della società in generale rientra a pieno titolo nel concetto di verbi vocovisual teorizzato da James Joyce in Finnegan's Wake, ossia il verbi vocovisuale, la necessità forse utopica o semiutopica, di ricreare la conoscenza attraverso la simultaneità delle arti e dei linguaggi. Questo tipo di comunicazione, appunto verbi vocovisuale, significa anche il superamento della classica distinzione tra arti del tempo e arti dello spazio, per cui le arti del tempo seguendo Laconte di Lessing erano le arti letterarie, il nach einander, uno dopo l'altro, un elemento dopo l'altro, mentre invece le arti dello spazio, quindi la pittura, la scultura, le arti visuali erano il neben einander, ossia uno accanto all'altro. Joyce era partito da queste riflessioni prima in Ulysses nel capitolo dedicato a Stephen Dedalus e poi si è ampliato, è andato ad ampliare il concetto, attingendo anche a numerose teorie filosofiche che comunque sono fondamentali per la ricerca linguistica anche in ambito sociale. Si tratta infatti di teorie molto utili per riflettere sulla rilevanza delle immagini verbali o anche visive anche all'interno delle nostre discipline del Dipartimento di Cultura e Politica e Società. Queste teorie poi da un punto di vista linguistico, culturale ma anche semiotico possono ricollegarsi ad esempio in modo proficuo alle teorie più recenti di Mitchell, la sua Picture Theory, William John Thomas Mitchell ad esempio, ma anche agli studi seminali di Rudolf Arnheim e il suo visual thinking, il suo pensiero visuale, il suo pensiero visivo, come la mente costruisce i pensieri sia dal punto di vista diciamo verbali sia dal punto di vista invece delle immagini. Tutti elementi questi che grazie all'arte appunto, come in questo caso l'esempio è quello di Automat, di Hopper, possono dipanarsi e servire come stimolo per ulteriori riflessioni e feconde riflessioni, in quella, in una prospettiva che spesso risulta fruttuosa, che è una prospettiva appunto interdisciplinare o ancora meglio transdisciplinare.